Pericolo scampato, l'oncologico di Bari continuerà ad essere un IRCCS, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. La commissione ministeriale ha espresso apprezzamento per la qualità dell'edificio, idoneo per l'assistenza dei pazienti oncologici. Il personale sanitario è stato ritenuto professionale, la produzione scientifica organizzata e la progettualità significativa. Ad argomentare i quattro parametri che hanno portato il ministero della salute a confermare il carattere scientifico dell'istituto Giovanni Paolo II, il direttore generale Vito Antonio Delvino, dinanzi a una platea di sanitari, amministrativi e tecnici. Ora, ha spiegato il direttore generale al personale dell'oncologico, dipende da voi mantenere e potenziare questi standard. Il risultato ottenuto, secondo Delvino, non era affatto scontato. Ma ce l'abbiamo fatta, ha sottolineato il direttore dell'Ares Puglia, Giovanni Gorgoni. Negli ultimi anni sono cambiate le normative in tema di riconoscimento degli IRCS e di politiche ministeriali relative alla ricerca scientifica e all'efficienza economica. Tanto che un anno fa la riconferma dell'istituto Tumori appariva molto improbabile. Nell'immediato futuro le cose da fare sono molte, potenziamento con risorse umane e strumentali, dell'urologia, chirurgia ginecologica, ortopedia oncologica ed endocrinologia. Tra i motivi di orgoglio anche la condivisione da parte della Commissione dell'attività messa in campo dalla nuova direzione scientifica guidata da Gianpietro Gasparini.